Il Cantante Mascherato 2023, quando inizia, Bortone nella giuria, tutte le novità. Il Cantante Mascherato 2023 ci riserverà tantissime nuove sorprese per la sua prossima ed imminente edizione che è prevista proprio per la metà del mese di marzo. Il format è una certezza, rimarrà sempre lo stesso, quello che da sempre ha saputo emozionare il pubblico di telespettatori come del resto anche gli ascolti TV hanno sottolineato nel corso del tempo. Ma ci sono, come anticipato, anche delle novità interessanti, tra le quali anche la presenza della giornalista Serena Bortone tra i membri che andranno a comporre la nuova giuria. Ecco tutto quello che sappiamo, continuate a leggere. Il Cantante Mascherato 2023, quando inizia, data, cast concorrenti, ci sarà Valeria Marini. Ormai siamo abituati a conoscerla. Soprattutto per i telespettatori affezionati. E con le sue interviste e le sue domande proverà a dare quel tocco in più all'intero programma. Serena Bortone, infatti, è stata chiamata a far parte della giuria del Cantante Mascherato 2023. E così la giornalista e conduttrice si prepara ad una nuova avventura nel programma targato RAI 1. A diffondere la notizia è stato il sito di ascolti di Davide Maggio It, che ha anticipato proprio in queste ore che Serena Bortone sarà una presenza d'eccezione tra la giuria del programma. La conduttrice del noto programma che va in onda tutti i giorni sulla RAI oggi e un altro giorno sarà una delle new entry scelte da Millie Carlucci per andare a comporre il programma che è ormai alla sua quarta edizione. Il Talent in Maschera non si smentisce mai, e nel corso del tempo ha ottenuto un successo indiscusso. confermato anche dall'indice di ascolte durante le puntate della scorsa edizione. Ma la presenza di Serena Bortone tra i membri che andranno a comporre la fatidica giuria non è l'unica novità in vista a quanto pare. Tra i tanti nuovi ingressi, da sottolineare anche la presenza di Iva Zanicchi, che proviene direttamente da Ballando con le stelle, ospite lo scorso anno più volte. Probabilmente ci sarà anche il mitico Cristian De Sica, la cui presenza darà certamente una marcia in più a tutto il programma. Tra gli altri, sono confermati anche Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Tutto pronto. Dunque, non ci rimane che attendere. L'inizio della nuova edizione del Cantante Mascherato 2023 fissata per sabato 18 marzo. Non ti vuoi, non ti minti, casa de cultură hiphop ma gasesti construinti. Split beton dupa care il intind si el devine tare in timp. Asa-i betonul, underground de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafonul si acum rapui moda ONU. Asa-i, si zici ca stom fort la cum ma comport, intreaba asta nu-i loc de confort, rigor si-o mor tot. Sunt un crucișetor, lansand rachete aerosol, inca de cand el era broke si se usa de aerosol. De cand avea mall, de cand nu stiai ce un miscol, de cand ascultam gangsta rapper baza pe pistol. Daca nu intelegi textul, suno pe Irina Nistor, va intalniti in tristor, la zero grade viscol. Nu tag nici stins mort, o sa m'auzi prin sol, transpir hiphop prin pori, bile ma... ... ...